Una storia infinita, quella del liceo scientifico statale Nuzzi di Andria, proclamato da oggi lo stato di agitazione ad oltranza perché negato il diritto allo studio degli alunni. Per questo i docenti scrivono alle massime autorità statali, coinvolgendo anche il presidente della Repubblica, Mattarella, con una missiva. Troppe parole, pochi fatti. I docenti del liceo scientifico statale Nuzzi di Andria non ci stanno e chiedono l'intervento delle massime autorità statali per risolvere definitivamente quello che viene definito un vero e proprio digniego del diritto allo studio per i propri alunni. Da oggi il Nuzzi è in stato di agitazione ad oltranza. L'iniziativa è stata annunciata in una missiva, a firma del Collegio dei docenti e del liceo scientifico, indirizzata al presidente della Repubblica, al ministro per le infrastrutture, al prefetto, al presidente della provincia, Batt, e al segretario generale della Batt, che rappresenta, così si legge, l'estremo tentativo ma anche l'ennesimo grido di dolore di una comunità scolastica ignorata, ingannata e beffata per più di mezzo secolo. È dagli inizi degli anni 60 che gli alunni del Nuzzi vedono vilipeso il loro diritto allo studio e attendono in vano che le aule di cui hanno estremo bisogno vengano loro consegnate, si legge nella missiva. Il pleso del Nuzzi nasceva già sottodimensionato e non in grado di accogliere la sua popolazione scolastica, cosa che ha costretto la comunità scolastica a essere spezzata e ad avere per 50 anni alunni e docenti sistemati in soluzioni di fortuna, spesso fatiscenti, sempre lontane dal plesso centrale. Negli ultimi anni, continua il consiglio dei docenti nella missiva, con la costruzione dell'ala nuova adiacente alla principale sembrava che il nostro calvario fosse finalmente terminato e addirittura lo scorso anno scolastico c'erano state consegnate parte delle aule, quelle al piano terra, di nuova costruzione. Poi, il ritorno indietro. Dopo infiniti incontri con le autorità di indirizzo e di gestione della provincia BAT, ci eravamo lasciati a giugno scorso, con la solenne promessa del presidente Giorgino che entro l'inizio del nuovo anno scolastico ci sarebbero state consegnate anche le aule del primo piano. Da allora, non solo nulla è stato fatto, denunciano i docenti, mentre il cantiere è deserto da dieci mesi, ma addirittura nemmeno l'allacciamento alle reti è stato realizzato e ora rischiamo di vederci strappate anche le aule in cui abbiamo fatto lezione lo scorso anno. Il tutto senza uno straccio di motivazione e nonostante ripetuti tavoli di lavoro con adempimenti tecnici e di sicurezza chiesti dalla provincia all'impresa e dalla stessa messa a punto. Da qui l'appello alle autorità coinvolte a intervenire tempestivamente, in particolare al presidente della Repubblica e al ministro, al primo perché non lasci inascoltato il loro grido vogliamo, si legge, solo poter garantire il diritto allo studio dei ragazzi, al secondo perché torni ad Andria dopo la strage dei treni del 12 luglio e si renda conto in prima persona di quale sia la situazione in cui versa la scuola. Non mancano anche pesanti riferimenti nei confronti della provincia, in particolare dei suoi dirigenti e alla gestione del caso da parte del presidente Nicola Giorgino. Grazie. 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 Grazie.